I finanzieri del GICO, del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, hanno sequestrato per intestazione fittizia beni per un valore di oltre 6 milioni di euro nei confronti di Candeloro Gagliostro, ritenuto vicino alla cosca Parrello, dominante nel territorio di Palmi. Le indagini avviate dalle fiamme gialle a seguito di una segnalazione della Polizia Municipale di Palmi per un abuso edilizio coordinate dalla Procura della Repubblica, nella persona del procuratore capo Ottavio Sferlazza e del sostituto procuratore Anna Pensabena, hanno dimostrato come Candeloro Gagliostro fosse l'effettivo titolare di beni immobili e attività imprenditoriali solo fittiziamente intestata a terzi con l'intento di mascherarne la realtà titolare, così da eludere la possibile applicazione di misure cautelarie ablative nei suoi confronti in ragione dei suoi rapporti di parentele e quindi di contiguità con la cosca Parrello, attiva nel comune di Palmi. Infatti, Candeloro Gagliostro risulta essere il nipote diretto di Gaetano Parrello, detto Lupo Iinotti, defunto capo storico dell'omonima concerteria mafiosa operante a Palmi, ucciso in un agguato nel 1986. Il provvedimento, disposto dal dottor Giulio De Gregorio e presso il Tribunale di Palmi, è stato emesso nei confronti di Candeloro Gagliostro e altre sei persone. Tra i beni oggetto del sequestro figurano il noto complesso turistico Beverly Village, incontrate a Cina quattro immobili e quattro società, di cui una nota concessionaria di auto, la Pugliese Auto, e società operanti nel settore della pulizia di edifici come la Public Service e l'Euroservice Group, che risultano essere assegnatari di diversi appalti banditi dal comune di Palmi, tra cui anche quella afferente alla pulizia degli uffici giudiziari del Tribunale. La penetrazione della cosca Parrello nel tessuto economico del territorio e nei rapporti con la pubblica amministrazione ha trovato riscontri in alcuni collochi intercettati in carcere del boss Giuseppe Gallico, appartenente all'omonima cosca contrapposta a quella dei Parrello su Palmi. Le fiamme gialle hanno inoltre appurato un elemento fittizio nelle complesse indagini patrimoniali che hanno evidenziato una sperequazione fra le lecite e certificate capacità reddituali dei soggetti formalmente acquirenti e le cospicue somme investite. Infatti, i soggetti prestanome sono risultati essere in condizioni economiche ai limiti della sussistenza, i cui redditi dichiarati sarebbero stati sufficienti solo per sostentamento del proprio nucleo familiare e assolutamente non è idonea a giustificare gli ingenti investimenti mobiliari e societari effettuati.